Buongiorno a tutti e a tutti, sono il dottor Francesco Somma, chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico. Oggi sono qui con Fortuna, una bellissima ragazza già di suo, che però aveva un naso importante che ne togliò un po' di armonia al viso. Tempo fa, perciò, lei si è affidata a me per sottoporsi all'intervento di linoplastica. Fortuna, ci vuoi raccontare la tua esperienza? Certo, come ad oggi è nato il dottore, io avevo un naso molto importante che mi creava non pochi problemi a livello estetico. Quindi decisi di sottopormi all'intervento di linoplastica e tramite amici in comune mi consigliarono il dottor Somma. Fin dalla prima visita alla mia consulenza mi ispirò molta fiducia e infatti ad oggi sono contenta di essermi affidata a lui, perché comunque sono felicissima del risultato finale che è molto molto naturale. Fortuna, tutti mi chiedono come è il posto operatorio, se è così fastidioso come dicono. Ho questa linoplastica di oltrasoni di nuova generazione che io faccio, ti ha aiutato a davvero un posto operatorio del tutto sopportabile. Per quanto riguarda il posto operatorio è molto 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 sopportabile, l'unica cosa un po' fastidiosa sono i tamponi, ma due giorni, poi basta tutto. Per quanto riguarda il dolore è pochissimo, molto leve, infatti con un antigolorifico passa subito. Lo rifaresti? Lo rifarei e lo consiglio a tutte, lo rifarei altre mille volte. Penso che va bene.